Il prossimo progetto ad essere presentato sarà quello che tutto vista è stato a Ponella Pellegrini del servizio informatico il cui titolo è VT Information Technology nei processi aziendali, sinergia e trasversalità. E l'istituto è Vincenzo Rando Lourdes di Roma. Grazie. 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 Allora, i ragazzi dell'Arange Ruiz hanno sviluppato con noi un progetto di informatica. Abbiamo tradotto in procedura informatica un processo che viene gestito all'interno dell'istituto. Loro sono bravissimi, avevano richiesto che avessero competenze informatiche e sono stati davvero bravi. Hanno interpretato tutto quanto in maniera eccellente. e hanno definito il progetto complesso e utile, quindi due sentiment, uno positivo e uno negativo. Credo che l'adjustment del complesso, quindi quello negativo, sia dovuto al fatto che effettivamente è stato difficile per loro entrare all'interno del meccanismo della procedura Ecolabel, perché comunque è una cosa completamente fuori dalla loro formazione. E' complesso perché comunque si sono anche dovuti adattare a tutti i vari meccanismi che abbiamo qui in istituto, quindi all'ingresso, a prendere i portati su cui lavorare, a rispettare degli orari, e quindi è complesso anche per questo. E' stato utile perché sono riusciti a mettere in pratica ciò che hanno fatto a scuola, quindi lo studio della banca dati, lo studio di linguaggio di programmazione, l'utilizzo di macchine server. E soprattutto credo che per loro sia stato interessante lo sviluppo dell'applicazione in team, perché hanno lavorato insai sullo stesso progetto, hanno pensato insieme, abbiamo trovato delle soluzioni e sono stati bravissimi a trovare degli escamotage per superare alcune problematiche tecniche. Quindi l'esperienza è stata, credo, positiva. Per noi di AGP-INF è stata entusiasmante e divertente, perché è stato bello vedere questi ragazzi che cercavano di adattarsi all'ambiente, che erano interessantissimi ai servizi che facciamo a livello di rete, a livello di servizio server. Quindi è stato bello. Per noi gli aggettivi che ti diciamo da livello tutor è stato divertente ed entusiasmante. E poi un'ultima cosa, devo ringraziare tutti i miei colleghi di AGP-INF, e soprattutto il capo, Simona, che ci ha supportato in tutto e per tutto. E tutti quanti gli altri, questi ragazzi hanno portato entusiasmo, perché abbiamo avuto una collaborazione all'interno del servizio bellissima. Allora, il progetto che ci ha visto come protagonisti prende il nome di IT Neurocessi Azientali, Sinergie e Trasversalità, ed è a cura della più presente Antonella Pellegrini. Allora, il team è composto da sei studenti, e da sei studenti, e tutti con conoscenze di base e di informatica. Quindi, chiaramente si legano direttamente con il progetto da sviluppare. Allora, io sono Moretti Matteo, lui è Leonardo Lancellotti, Alessandro Curenti, Federico Fiorello, dietro con la camicia bianca, Simone Fronda e Nicolae Chirei. Allora, il progetto vuole la realizzazione di una piattaforma che permetta di gestire la certificazione Ecolabel. Ecolabel è un marchio che le aziende europee possono richiedere per dei prodotti o dei servizi per permetterne una garanzia di linea ecosostenibile. Il procedimento per tale richiesta è chiamato istruttoria. Nella nostra piattaforma dovremmo realizzare quindi un'applicazione per gestire le certificazioni, gestire back-end e front-end, gestire documentazioni sia di flusso che di manuali di uso. La piattaforma quindi fondamentalmente avrebbe dovuto rispettare e gestire tre fondamentali luoghi. Innanzitutto, la registrazione della società, con l'attivo referente, l'appel, referente per la società. Poi avrebbe dovuto creare delle istruttorie o poter modificare delle istruttorie preesistenti oppure avrebbe potuto inserire prodotti o gruppi di prodotti o servizi anche tramite fogli Excel per le varie istruttorie. Per la realizzazione del sistema informatico siamo partiti dalla situazione iniziale nel quale le licenze sui prodotti e servizi Ecolabel erano gestiti attraverso un foglio Excel nel quale era molto confusionario poiché pieno di informazioni e per giunta tutte diverse. Per fare degli esempi, in una stessa cella di questo foglio Excel conteneva troppe informazioni, ad esempio dieci prodotti o anche di più, con nomi tutti diversi. Un altro problema era quello della duplicazione delle informazioni. Queste informazioni venivano duplicate quando una società creava un'istruttoria e per ogni istruttoria che veniva creata dalla società venivano inserite sempre le informazioni della società richiedente. Questo ovviamente non faceva altro che appesantire il foglio Excel e lo rendeva anche difficile da visionare. L'ultimo problema, uno dei più importanti, è la disomogeneità della gestione del dato stesso. Ad esempio, gli stati a cui venivano distribuiti i prodotti, i nomi di essi, quindi delle nazioni, erano scritti in tantissimi modi diversi. Ad esempio, Europa era scritto tutto maiuscolo, magari tutto minuscolo, addirittura anche abbreviato. Ancora, Francia ha scritto tutto maiuscolo e addirittura, alcune volte, anche con dei caratteri speciali. Tutte queste problematiche non consentivano un'efficiente ed efficace gestione delle informazioni. Gli strumenti utilizzati per questo progetto sono stati partendo dai linguaggi di programmazione abbiamo usato le nostre competenze in HTML, quindi anche CSS, PHP appena imparato durante l'esperienza e JavaScript. Poi, come strumento, abbiamo utilizzato Todd for MySQL, che serve per gestire il database a livello di tabelle. PHP Maker, che serve per la modellazione del database e genera, per appunto generare i vari file PHP, CSS, HTML e JavaScript. Poi XAMPP, quindi anche Apache e MySQL, per simulare il server. MySQL Workbench, per lavorare all'idea del database. Tutto di gestione dei server remoti, quindi la gestione del desktop remoto di Windows per accedere alla macchina remota sulla quale stavamo lavorando. E infine il pacchetto Office per la documentazione e per la gestione delle presentazioni. Questa qui è stato il nostro percorso che abbiamo deciso di suddividerlo in base ai mesi, in questo caso marzo, aprile e maggio. Nel mese di maggio, ci sono state spiegate quelle che erano le problematiche che abbiamo spiegato prima, c'è che c'era una gestione poco curata di questi dati, su questi fogli molto disorganizzati e per ovviare a questa situazione si è optato di realizzare una piattaforma che avrebbe gestito questi dati molto più facilmente e come prima struttura abbiamo realizzato un database dove appunto nel futuro verranno inseriti questi dati ma soprattutto l'utente potrà gestire molto più facilmente e molto più fluidamente. Nel mese di aprile, dopo le considerazioni e i requisiti specificati nel mese precedente, il progetto è entrato in piena fase di lavorazione. Come principio il team si è diviso in due sub-team. Il team di back-end è il team di back-end e il team di front-end. Il team di back-end doveva, l'obiettivo del team di back-end era l'abilitare, era la gestione dell'abilitazione degli utenti preferenti e col Apple mentre il front-end doveva gestire tutto quello che riguardava le iscrizioni e l'inserimento degli istruttori e vari prodotti. Quindi l'obiettivo per questo mese era quello di cominciare lo sviluppo e la modellazione del database. Quindi in questo mese i software utilizzati sono stati Todd for MySQL per la modellazione del database e PHP Maker 2017 per la modellazione di quello che sarà poi il sito web. La parte back-end aveva un pensiero principale che era quello pur se in fase di sviluppo l'accesso è stato fatto prendendo solo la BIM è stata la gestione di quali utenti possono visualizzare quali tipi di istruttori e quali tipi di prodotti e quindi fare in modo che un referente di una determinata azienda possa visualizzare solo i prodotti istruttori e servizi di quella determinata azienda. Mentre nella parte front-end come ho detto prima ha lavorato tutto quello che riguarda all'accesso e alle richieste. Buonasera a tutti. Durante il periodo di maggio abbiamo avuto due incontri con i richiedenti del sistema e in questi due incontri abbiamo riscontrato delle imprecise situazioni all'interno del sistema e quindi siamo passati alla fase di miglioramento e di correzione dei diversi incomprensioni nelle basi di sviluppo. Durante maggio quindi abbiamo avuto la fortuna per noi di trovarci in una situazione di colloquio proprio con chi ci ha commesso questo lavoro con questo progetto e questo qua ci ha fatto pure utile per un futuro per un prossimo futuro perché ci siamo resi conto che anche all'interno delle grandi piccole aziende sempre ci sarà un colloquio con un richiedente un fornitente noi siamo un fornitente però un committente grazie. Poi durante dopo questi due colloqui che sono stati fondamentali ci siamo resi conto che serviva per la piattaforma Ecolab effettuare per il lato dell'uso di creare un file in grado di caricare all'interno del sistema molte pesanti flussi di dati e per questo motivo ci siamo impegnati alla realizzazione di un foglio Excel che sarà poi distribuito alle varie aziende che andranno ad utilizzare questo sistema per fare un caricamento massivo di tutti i dati all'interno del sistema e proprio questo qua abbiamo interagito con linguaggi direttamente in PHP per creare degli script in grado di decodificare il file e apportarlo con modifiche e proprio per evitare i problemi che ci erano già stati in passato errate scritture e modi di dire delle stesse cose differenti abbiamo pure aggiunto dei controlli proprio per evitare questi problemi e che daranno come risultato diranno in alcuni casi se c'è stato un errore durante il caricamento quali sono i punti da correggere nel file o addirittura se il file presenta caratteri speciali o lettere maiuscole e minuscole andrà a correggere in automatico tutti questi errori adesso passo la parola a Nicolai buonasera a tutti allora questo progetto è stato molto profico in quanto sia dal punto di vista professionale che personale in quanto abbiamo acquisito nuove conoscenze e ne abbiamo consolidato di altre tra cui le più importanti sono le conoscenze trasversali cioè il lavoro in squadra il rispetto degli orari l'adattamento alla nuova esperienza quindi queste sono cose che sono conoscenze molto importanti anche al di fuori del che sono importanti in tutte le aziende quindi sono delle conoscenze di base che tutti dovremmo acquisire e durante gli incontri si sono fatti delle vere e proprie sessioni di brainstorming cioè abbiamo messo in comune tutte le idee per trovare la soluzione migliore alta a risolvere il problema quindi noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare a una vera e propria progettazione in quanto abbiamo visto tutti i passaggi per realizzare questo archivio e abbiamo parlato con chi dovrà utilizzare questo applicativo infatti questo è un punto cruciale perché di solito la parte più critica è quella quando si parla con chi dovrà utilizzare quindi con l'utente durante questa esperienza abbiamo visto le difficoltà di quest'ultima ma grazie alla nostra tutora aziendale c'è stato possibile comunque adattarci e sicuramente abbiamo imparato molte cose e c'è stato è stato il progetto che fino ad ora è stato più inerente al nostro indirizzo di studi perché quello informatico e io ringrazio a nome di tutti coloro che hanno partecipato direttamente e direttamente alla realizzazione di questo di questo progetto grazie